Come nasce un servizio televisivo? Che cos'è una notizia? Quando merita di essere raccontata al pubblico? Come si crea un telegiornale o un palinzesto di programmi? I bambini delle due quinte elementari della scuola Dovidio di Campobasso, venuti in visita alla redazione di Telemolise insieme alle insegnanti, hanno seguito attenti la lezione del direttore Emanuela Petescia e degli altri giornalisti. La rassegna stampa tra cinque minuti va all'oroscopo. Tante le domande sugli argomenti più disparati, tante le curiosità per scoprire tutti i segreti del mondo giornalistico della tv, dal funzionamento dei macchinari, come si usano le telecamere, il touchscreen per la lettura dei file pdf per la rassegna stampa, come funziona la messa in onda dei programmi o dei servizi durante il telegiornale e come vengono montati i servizi con l'incisione di un audio e le immagini corrispondenti. Una esperienza entusiasmante per i piccoli giornalisti in erba.